Sono molto contenta per la prestazione di squadra, siamo riuscite finalmente un po' a esprimerci, non sicuramente ai massimi livelli perché ci stiamo ancora in fase di rodaggio, ci sono ancora tante imprecisioni anche su chi deve prendere la palla di secondo tocco, però sono contenta per questi tre punti perché ci serviva per l'entusiasmo, dato comunque le partite precedenti che sono state anche molto difficili da parte nostra perché abbiamo trovato delle bellissime squadre, quindi sono contentissima. Vi aspettavate più reazione da parte di Montichiari oppure siete state proprio brave a tarpare le ali in tutti i fondamentali? Sì, sicuramente ci aspettavamo una reazione, noi siamo state comunque brave a tenerle a bada, evitando noi degli errori in battuta, errori facili, stupidi, magari di terzo tocco alzato malissimo, quindi siamo andati.